Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 7 novembre 2015 e ci troviamo ad Ancona. Sono le 13.30 e attorno al civico 9 di via Crivelli, nei pressi della sede della regione Marche, sembra un sabato tranquillo, come tutti gli altri. Le famiglie sono sedute a tavola, ma delle urla irrompono mentre stanno pranzando. Un uomo imprega e chiede aiuto. Poi si sentono degli spari. Fabio Giacconi, sotto ufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio alla base di Loreto, è stato colpito da quattro proiettili all'addome e uno alla testa, e lotta tra la vita e la morte. Roberta Pierini, sua moglie, ha ricevuto due colpi in testa ed è morta sul colpo. Quella attuata nei confronti dei coniugi è un'esecuzione messa a segno con una calibro 9. Quando carabinieri, polizia e sanitari della Croce Gialla arrivano sulla scena del crimine, constatano il decesso della donna e tentano il possibile per salvare il marito. Portato d'urgenza all'ospedale Torrette, Fabio Giacconi viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A essersi macchiato del delitto è il diciottenne Antonio Tagliata, mentre a raccontare le ore che precedono l'omicidio è suo padre Carlo. L'uomo riferisce che alle 12.40 Antonio gli aveva telefonato dicendogli che voleva togliersi la vita. Carlo e sua moglie avevano quindi provato a farlo ragionare, ma il figlio aveva terminato la chiamata e spento il telefono, rendendosi quindi irraggiungibile. Allarmati, i genitori di Antonio avevano contattato le forze dell'ordine e quando i carabinieri le hanno informati di ciò che era successo, sono rimasti senza parole. Antonio non si era tolto la vita, come temevano, ma aveva tolto la vita a qualcun altro. Ma chi era Antonio? Carlo descrive suo figlio come un ragazzo dal cuore d'oro che si caricava sulle spalle i problemi degli altri, anche se aveva già quelli personali da risolvere. Aveva iniziato a soffrire di attacchi di panico ed era seguito da uno specialista. Aveva una relazione con la sedicenne Martina, studentessa in un istituto superiore del capoluogo d'Orico e figlia dei coniugi Giacconi. Questo rapporto sentimentale, secondo i genitori del ragazzo, lo aveva trasformato. Antonio non era più lui. Itagliata aggiungono che la settimana prima del delitto, Antonio aveva tentato più volte di togliersi la vita. Le istituzioni lo sapevano, ma nessuno aveva fatto nulla. Dunque, per loro, questa tragedia si poteva evitare. Emerge che Fabio Giacconi e Roberta Pierini osteggiavano la relazione tra la figlia e Antonio, anche se Carlo Tagliata rivela che la ragazza era stata ospite a casa sua, con il permesso dei genitori, per almeno una ventina di giorni. Ad accompagnarla era stata proprio sua madre, con tanto di valigia al seguito. Carlo sostiene che Martina da loro si sentiva in famiglia, ma siccome la giovane esercitava un'influenza dannosa su Antonio, Itagliata avevano contattato i genitori della ragazza affinché tornassero a prenderla. Questo era avvenuto una decina di giorni prima del delitto. Sempre secondo il racconto del padre di Antonio, la sedicenne avrebbe incontrato il figlio un'ora prima dell'omicidio. Lui le avrebbe messo la pistola in mano e le avrebbe chiesto di ucciderlo. Ponendo fine alla sua esistenza tormentata. Lei però lo ha convinto ad esistere. Si sono recati insieme a casa dei genitori di Martina. La ragazza ha aperto la porta, ma siccome suo padre Fabio ha aggredito Antonio, lei ha urlato al fidanzato di sparare. Quella violenza, quei colpi di pistola, dovevano costituire il loro passaporto per la libertà. Questa è la versione fornita da Carlo tagliata, forse valida, ma da verificare. Così come va accertato il rapporto conflittuale tra i giacconi e la figlia. Pare che l'asteo tra loro risalissia ben prima del rapporto con Antonio. Ancora Carlo riferisce che Martina in passato avrebbe tentato più volte la fuga da casa e in un'occasione si sarebbe rivolta ai carabinieri di Brecce Bianche per segnalare episodi di maltrattamenti da parte del padre. Fonti investigative smentiscono però la versione di tagliata. Martina in realtà non era scappata. Si era rivolta alla caserma dei carabinieri di Brecce Bianche per informarsi su come fare per poter vivere a casa del fidanzato. Le indagini sulla coppia Antonio-Martina evidenziano che i due erano fidanzati da circa quattro mesi. Si erano incontrati a una festa, poi avevano iniziato a frequentarsi, erano diventati inseparabili. Vivevano in una simbiosi ossessiva e morbosa. Avevano anche rinunciato ai loro account personali sui social network per aprire un profilo Facebook unico dove entrambi postavano e commentavano le proprie foto. Ovviamente non c'è niente di male ad avere il profilo Facebook condiviso ma dopo soli quattro mesi mi pare un po' affrettato. Ecco, i genitori di Martina non approvavano questa relazione in quanto Antonio non studiava né lavorava. Il ragazzo aveva frequentato il primo anno all'istituto alberghiero di Senigallia poi si era ritirato prima della fine dell'anno scolastico. Ma la sua inoperosità non era l'unica preoccupazione. I Giacconi infatti avevano scoperto qualcosa su Carlo Tagliata, il padre di Antonio e cioè che l'uomo aveva avuto dei guai con la giustizia. La decisione dei coniugi Giacconi era netta e insindacabile. Non potevano accettare che la loro unica figlia frequentasse il figlio di un pregiudicato. Il passato di Carlo Tagliata era venuto a galla quando i coniugi Giacconi si erano rivolti alla questura di Ancona dopo che Martina non era rientrata a casa. Che tipo di problemi aveva avuto con la giustizia Carlo Tagliata? Viveva in Sicilia, era ancora minorenne ma come il figlio aveva ucciso per amore in giovane età. Nel 1987 Carlo sarebbe stato accusato di un delitto passionale in concorso con altri. Era stato il tribunale dei minori a processarlo come esecutore materiale dell'omicidio di Salvatore Morale un uomo che secondo lui insidiava la sua fidanzatina dell'epoca e che Carlo aveva affreddato a colpe di pistola. In ogni caso Martina si era più volte ribellata alle opposizioni dei genitori. Fabio Giacconi aveva anche minacciato di denunciare il giovane per la sua relazione con sua figlia minorenne. Qualcuno descrive Antonio come un gigante buono qualcun altro come un tipo esuberante, un po' bulletto ma senza eccessi. Nessuno immaginava che si sarebbe trasformato in un assassino a sangue freddo e tutto quanto avvenuto quel sabato in via Crivelli 9. Le testimonianze raccolte inquadrano i due insieme nei momenti precedenti e immediatamente successivi agli spari. Si sono allontanati a piedi e non in scooter come inizialmente si è detto. Hanno camminato lungo via Boncompagni passando per il liceo classico. Sono arrivati in via Veneto e poi in piazza Cavour dove avrebbero preso un autobus per raggiungere la stazione di Falconara. Da un telefono pubblico Antonio ha chiamato il 112 dicendo soltanto abbiamo fatto un casino. Così i carabinieri della locale tenenza hanno catturato la coppia alla stazione. I giovani non hanno posto resistenza. Lui era al telefono e egli stava accanto. Con loro c'erano due parenti di tagliata, le cui posizioni vengono sottoposte al vaglio degli inquirenti. Antonio e Martina, entrambi al comando provinciale dei carabinieri in via della Montagnola, devono rispondere alle domande degli inquirenti. Antonio viene posto infermo di polizia giudiziaria con le accuse di omicidio, tentato omicidio e porto abusivo di un'arma da fuoco. Durante l'interrogatorio il 18enne si sente male e in caserma interviene un equipaggio della Croce Gialla di Ancona. Antonio ammette la responsabilità della sparatoria durante l'interrogatorio, che termina alle 4 del mattino di domenica 8 novembre. Fiega di essere andato a casa dei Giacconi, armato perché temeva la reazione del padre di Martina. Si era presentato nell'appartamento con una pistola, due caricatori pieni e una scatola da 50 colpi. In totale aveva 86 proiettili. Tuttavia sostiene che non era intenzionato a uccidere. Aveva sparato a Fabio Giacconi a causa del suo atteggiamento aggressivo, sprezzante e offensivo. Fabio avrebbe attaccato Antonio e la sua famiglia, detto che gli avrebbe mandati in galera. Così il ragazzo è andato fuori di testa e ha fatto fuoco. Lo scopo era quello di incontrarsi per parlare, chiarire la situazione con Martina, ma il tutto si era concluso in un bagno di sangue. Antonio Tagliata viene recluso a Montacuto, in stato di fermo per l'accusa di aver ucciso Roberta Pierini e ferito gravemente Fabio Giacconi, sparando alla coppia con una calibro 9. Fabio è ricoverato in coma irreversibile al reparto di rianimazione dell'ospedale regionale di Torrette, ferito da cinque colpi d'arma da fuoco. Uno lo aveva preso di striscio all'orecchio, mentre gli altri quattro gli avevano perforato l'addome. Intanto alcune cimici nascoste nel comando dei carabinieri della montagnola hanno raccolto le frasi di Antonio a poche ore dal delitto. Li ho colpiti alla testa! Prima lei, poi lui. Lei gridava come una gallinella. Lui ha cercato di scappare. Dalle intercettazioni emergono anche alcune dichiarazioni della sedicenne che sembra non rendersi conto di quanto è successo. E infatti chiede Ma la mamma è svenuta? Risponderle è il padre di Antonio che le dice No, i tuoi genitori sono morti tutti e due. Ora siamo noi la tua famiglia. Antonio aggiunge rivolgendosi a Martina Ti rendi conto? Amore? Adesso diventiamo famosi. Dalle loro frasi, però, ancora non emerge chiaramente quale sia stato il movente dell'omicidio. I due fidanzati non fanno mai riferimento al fatto che i genitori di lei si opponessero al loro rapporto. L'arma del delitto di Via Crivelli viene trovata occultata in un secchio della spazzatura, situato in Via Bramante, strada poco sopra il civico dove si è consumata la tragedia. Ha la matricola a Brasa e Antonio non spiega dove e come ne è entrato in possesso. Un dettaglio che fa ipotizzare una provenienza illecita, forse riconducibile alla criminalità organizzata? Com'è potuta finire una pistola clandestina nelle mani di quel giovane di Ancona? Perché Antonio aveva con sé tutti quei colpi? Intanto i parenti del ragazzo rischiano l'accusa di favoreggiamento. Mentre Antonio è in carcere, Martina si trova in una casa protetta nella provincia di Ancona. Interrogata dal PM, la ragazza afferma che, quando Antonio ha sparato, è rimasta impietrita. Anche perché era convinta che quella fosse una pistola giocattolo. Aggiunge che non doveva finire così, infatti erano andati dai suoi genitori per un chiarimento. Dopo la tragedia, Martina avrebbe seguito Antonio per paura. Eppure la procura minorile del capoluogo le contesta le stesse accuse del fidanzato. Omicidio volontario e tentato omicidio. La ragazzina viene definita glaciale da chi ha avuto modo di vederla in attesa di incontrare il PM. Il suo avvocato difensore invece la descrive come sotto shock, in lacrime, quando ha iniziato a rendersi conto di ciò che era avvenuto. Si attende l'udienza di convalida del fermo giudiziario davanti al GIP. Forse, all'interrogatorio di garanzia, si può tenere chiarezza su alcuni dettagli di quelle ore di sangue. Infatti, i racconti dei due giovani non coincidono almeno su due punti. Il primo è il momento in cui si sono visti alla fermata dell'autobus di Piazzale Europa, dove si erano dati appuntamento per poi andare insieme ad affrontare i genitori di Martina. Secondo quanto raccontato da Antonio, lei sapeva della pistola perché l'aveva vista, fatto smentito dalla ragazza. Poi i due sono arrivati al civico 9 di via Crivelli e sono saliti. Lei aveva le chiavi, ha aperto la porta e la discussione con i genitori è iniziata nel salone. Il diverbio però è degenerato. A quel punto, secondo la versione di Antonio, Giacconi lo avrebbe aggredito ed è in quell'istante che avrebbe udito la fidanzatina urlare «Spara, spara!» Così lui ha estratto la pistola e ha sparato. Ricostruzione in contrasto con la versione di Martina che, anzi, sarebbe rimasta scioccata vedendo quell'arma nelle mani del fidanzato. Il ragazzo che amava e che, in un lampo, ha distrutto brutalmente la sua famiglia. Intanto, nell'abitazione dei Tagliata, viene sequestrato un biglietto scritto da Antonio, ossia confesso all'omicidio di Fabio Giacconi e Roberta Pierini. Un gesto, come rivela il giovane al PM, compiuto per proteggere il padre da eventuali indagini dato che ha avuto problemi con la giustizia. Parole drammatiche scritte dal ragazzo su cui interviene anche l'avvocato confermando che il suo assistito, preoccupato che i sospetti potessero ricadere sul genitore, si sarebbe assunto preventivamente la responsabilità di ciò che, da lì a poco, avrebbe fatto. Sempre nell'abitazione della famiglia Tagliata, Antonio avrebbe lasciato anche tre lettere indirizzate al padre, alla madre e ai fratelli, ancora parole attraverso cui il ragazzo chiede scusa per l'assassinio che sta per mettere in atto. A questo punto, la posizione del giovane indagato si aggrava ulteriormente, perché il PM potrebbe imputare anche la premeditazione del reato. Senza contare che questi scritti si pongono in evidente contrasto con le prime dichiarazioni rilasciate proprio da Antonio, quando aveva sostenuto di aver reagito a una presunta aggressione di Fabio Giacconi. Dunque, Antonio Tagliata ha premeditato l'omicidio e lasciato quel biglietto a scopo precauzionale o ha sparato perché la discussione era degenerata? Qual è la verità? Nel primo caso, avrebbe inizialmente mentito agli investigatori. Nel secondo caso, potrebbe non essere il vero autore delle lettere. Il compito degli inquirenti diventa sempre più delicato, perché, oltre alle versioni incompatibili dei due indagati, devono appurare le contraddizioni di Antonio stesso. A mettere in dubbio la versione di Antonio è anche la casa dove è avvenuto il crimine, che risulta perfettamente in ordine. A parte le tracce di sangue di Roberta Pierini e Fabio Giacconi, non risalta nulla di anomalo. A loro arrivo sulla scena del delitto, i carabinieri hanno trovato prima il cadavere di Roberta Pierini, riverso con la faccia a terra a circa un metro dall'ingresso. Era stata affreddata da tre colpi, di cui due diretti alla testa. I due cagnolini di casa, poi recuperati dai volontari di un canile, e successivamente affidati dai parenti, vegliavano accanto alla 49enne. Fabio Giacconi, invece, era ancora cosciente. Seduto sul balcone con un braccio disteso a reggersi sulla ringhiera, sanguinava dalla testa e dal torace. Per la procura di Ancona, sua figlia Martina è socialmente pericolosa. Lo si vince dal contenuto della richiesta avanzata dal procuratore capo al giudice, dopo sei ore di camera di consiglio. Subito dopo l'udienza, la sedicenne viene trasferita in una struttura detentiva minorile, fuori dalle marche. Martina non è stata creduta, quando ha detto di aver pensato, nel vedere la pistola in mano ad Antonio, che quella fosse un'arma giocattolo. Così come non è stata ritenuta plausibile la paura, quale motivazione che l'avrebbe spinta a seguire il fidanzato nella fuga dopo la sparatoria. Intanto il fermo giudiziario di Antonio viene convalidato, quindi il ragazzo resta in carcere. Il giovane ha dato nuovi elementi agli investigatori, dicendo di aver gettato in strada il giubbotto e il cellulare durante la fuga dal luogo del delitto. Proprio mentre lui raccontava, i carabinieri di Ancona si sono mobilitati per trovare l'indumento, una giacca nera con la zip e due tasche dove il diciottenne teneva i caricatori e la pistola. L'arma sarebbe stata comprata da un albanese in piazza Cavour, tesi a cui gli investigatori non credono. Quanto al cellulare, non si trova. Durante questo ulteriore interrogatorio, Antonio conferma sostanzialmente quanto raccontato durante il primo, quello con i carabinieri. Riferisce di aver scritto il messaggio in cui preannunciava di voler ammazzare i genitori di Martina non perché aveva premeditato l'omicidio, ma perché sapeva che le cose sarebbero potute finire male. Dunque non voleva che la colpa ricadesse sul padre, pregiudicato, quindi ha negato di essere partito da casa con l'intenzione di uccidere, ma una volta lì ha sparato per paura dell'uomo che lo stava aggredendo, Fabio Giacconi. Tuttavia in questa ricostruzione ci sono almeno due elementi in contraddizione. Punto primo. Se è vero che Fabio Giacconi ha aggredito Antonio, perché sparare per prima alla moglie? Ma soprattutto è plausibile che Fabio Giacconi, convalescente da una recente operazione al ginocchio, fosse nelle condizioni di aggredire qualcuno. Nell'ordinanza di convalida del fermo, il GIP parla di una chiara intenzione omicida da parte di un uomo che, nonostante la giovane età, sarebbe capace di rimediare un'arma clandestina per portare a termine lucidamente un'esecuzione ai danni del soggetto che ostacolava la realizzazione del proprio desiderio. Quei bigliettini scritti preventivamente, ma non solo loro, inquadrano Antonio Tagliata nel ruolo dell'autore di un delitto pianificato. Il GIP non ha creduto nemmeno alla versione data dall'imputato, in sede di convalida del fermo. Quando ha detto «Ho visto del fumo!» Lei mi ha detto «Spara, spara!» Sono andato nel panico e ho fatto fuoco di copertura. Parole inquietanti da parte di un diciottenne che ha raccontato quegli attimi di follia usando un gergo da film di guerra, come fosse un soldato, costretto a sparare all'impazzata per coprire l'azione eversiva di un compagno. Ha detto anche che gli si erano appannati gli occhiali da vista, ma di questi occhiali gli investigatori non sanno nulla. A questo punto dell'indagine spunta fuori un super testimone. Si tratta di un vicino di casa sicuro di aver assistito a una scena agghiacciante dall'alto del suo balcone, di fronte alla palazzina del delitto. Dopo i primi colpi di arma da fuoco, avrebbe visto una pistola attesa spuntare dall'apertura del balcone di via Crivelli 9. Questo è un ulteriore elemento indiziario che riconferma agli investigatori la tesi che individua Antonio Tagliata come l'ideatore meticoloso e l'artifice materiale di un'esecuzione in piena regola, naturalmente in concorso con la fidanzatina e figlia delle vittime. Dunque, se Antonio Tagliata che Martina Giacconi rischiano l'ergastolo per le accuse di omicidio volontario è tentato omicidio con la pesantissima aggravante del vincolo parentale tra vittima e Aguzzino. Venerdì 20 novembre il cellulare di Antonio viene trovato in un'area verde tra via Tiziano e via Buonarroti. All'interno c'è la batteria, ma non la sim card. È evidente che qualcuno, presumibilmente proprio Antonio, si sia sbarazzato del materiale utile agli investigatori. Tuttavia l'apparecchio, grazie ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili, potrebbe svelare comunque degli stralci di conversazioni tra i due fidanzati. Un tassello importante per ricostruire le chiamate, gli sms, i messaggi su whatsapp e i social network risalenti alle fasi precedenti e immediatamente successive all'omicidio. Nel frattempo gli investigatori attendono anche di scoprire cosa ci sia nel telefono della sedicenne che insieme al computer è sotto sequestro. Se, da una parte, sembra chiara la posizione del diciottenne per far luce sulla posizione di Martina, le conversazioni telefoniche tra i due sono elementi rilevanti. I parenti, come anche il suo avvocato, sono certi che la ragazza sia stata plagiata dal tagliata e non viceversa. Anche se, come detto, viene accusata di concorso in omicidio tanto quanto lui. Il motivo? Sapeva della pistola. Tuttavia ha aperto la porta di casa al fidanzato armato e poi è scappata con lui, senza avere mai un ripensamento, neppure dopo che il diciottenne si è disfato dell'arma. La difesa della giovane continua a ribadire che Martina, condotta nel carcere minorile di Napoli, pensava che la pistola fosse un giocattolo per intimidire i genitori, i quali erano molto autoritari e inflessibili. Poi, come riportato, avrebbe seguito il fidanzato per paura, sotto shock, senza capire che cosa stesse succedendo intorno a lei. Insomma, tutt'altra ricostruzione rispetto a quella che emergerebbe da Antonio Tagliata, il quale non soltanto avrebbe raccontato di una ragazzina complice e partecipe, ma pure capace in quei secondi di follia di gridare spara spara! Il primo dicembre 2015 si diffonde la notizia che Fabio Giacconi, ricoverato nel reparto e reanimazione di Torrette in condizioni gravissime, è venuto a mancare. Sale dunque a due il numero delle vittime del delitto di Via Crivelli e l'accusa per i giovani si aggrava in duplice omicidio. Dall'autopsia effettuata su Fabio Giacconi, emerge che Antonio li aveva sparato per quattro volte frontalmente, mentre l'uomo tentava di arretrare verso il terrazzo in cerca di riparo e gridando aiuto. Da quattro colpi sparati, tre sono andati a segno. Il primo lo ha colpito all'altezza della spalla, il secondo invece sul petto. Il terzo proiettile, forse quello mortale, è entrato nel cranio ed è uscito all'altezza di un orecchio, causando danni irreparabili. Il 13 gennaio 2016, Antonio ribadisce al suo avvocato che sarebbe stata la sua fidanzatina a indurlo a sparare. Era stato estigato da lei. Il giovane ha tentato di togliersi la vita in carcere, ingerendo della canneggina dopo aver sentito delle voci che lo intimavano di farlo. A questo proposito, si scopre che quelle voci Antonio le sentiva da anni. Voci che gli dicevano di farsi del male e che spiegherebbero tutta una serie di atti di autolesionismo praticati dal ragazzo in passato. Il suo avvocato teme per lui perché il ragazzo ha lo sguardo assente come quello di chi non ha più voglia di vivere. Anche per questo il legale ha già incaricato un medico-psichiatra e una psicologa di effettuare una consulenza. Lo scopo chiaramente è quello di stabilire se Antonio fosse capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio, ma anche se sia o meno in grado di sostenere il processo. È credibile che Antonio Tagliata sia stato plagiato? Se è davvero stata Martina a urlare spara spara spingendo al limite mentre lui impugnava un'arma pronto a tutto pur di non separarsi dalla sua fidanzata, come si spiega che il ragazzo avesse con sé due caricatori e un'intera scatola di proiettili? Possibile che Martina in pochi mesi di relazione possa aver influenzato Antonio fino a questo punto? Lui che tra l'altro non aveva avuto contatti telefonici con lei nell'ultima settimana prima del delitto e lo dimostrerebbero i tabulati telefonici raccolti dalla procura di Ancona. Lui che, prima di andare in via Crivelli, aveva scritto dei messaggi alla famiglia di cui uno è indirizzato al padre con scritto te l'ho sempre detto 30 anni non te li faccio prendere. Un biglietto di dubbia interpretazione che per il legale del diciottenne è frutto della reazione ai contrasti avuti tra la sua famiglia e Giacconi. I parenti di Martina chiaramente sostengono fermamente che è irragionevole pensare che la ragazza avesse plagiato Antonio e l'avesse indotto a uccidere i propri genitori. Durante l'incidente probatorio Antonio parla per quasi sei ore con l'idea di fare chiarezza sul grado di coinvolgimento di Martina e qui a mio avviso emerge qualcosa di interessante. Il ragazzo spiega che una volta usciti dalla casa dei genitori di Martina le aveva detto che era libera di andare per la sua strada perché il suo futuro da quel momento in poi non sarebbe stato più lo stesso. Martina però gli aveva risposto che voleva scappare insieme a lui. Se da un lato la fuga con l'esecutore dell'omicidio è un elemento che pesa come un macigno per il giudizio sulla minorenne è pur vero che Tagliata ha ammesso che prima di salire in casa a Giacconi era stato lui a cercare lei. Prima le aveva inviato diversi sms senza ottenere risposta. Poi era andato alla fermata dell'autobus di Piazzale Europa per farle una sorpresa con se aveva la pistola i caricatori e i proiettili. E qui c'è una contraddizione. In occasione della convalida il 18 anni aveva detto che voleva spararsi perché Martina credeva che un chiarimento con i genitori sarebbe stato inutile. Poi riferisce al contrario sarebbe stata lei a invitarlo a salire per parlare con i suoi convinta potesse essere risolutivo. Fatto sta che Martina non poteva prevedere di incontrare Antonio non sapeva della pistola che riteneva fosse un giocattolo e gli avrebbe aperto la porta di casa convinta delle sue buone intenzioni. La posizione di Martina quindi viene rivalutata. Non può essere stata alla mente del progetto omicida inoltre quel pomeriggio del 7 novembre non aveva idea di ciò che di lì a poco sarebbe successo. Lo psichiatra Renato Ariatti incaricato di formulare una perizia psichiatrica su Antonio Tagliata si è espresso riconoscendo un disturbo della personalità borderline con rischio concreto di condotta sui di aria. Una diagnosi per cui la detenzione del giovane sarebbe incompatibile con il carcere. Questa perizia conferma i sostetti della difesa che ormai da tempo aveva messo in guardia sulle condizioni fisiche e psichiche del proprio assistito. Il giudice però decide di trasferire Antonio nel carcere di Torino una scelta profondamente contestata dal legale dell'indagato che parla di un grave errore e ingiustificato. L'avvocato infatti aveva fatto richiesta di una modifica della misura cautelare che non fosse restrittiva perché il giovane dopo aver tentato di togliersi la vita ingerendo della canneggina si sarebbe poi provocato dei tagli profondi sulle braccia con una lametta come denunciato dalla zia Antonella. Dunque Torino non era la realtà adatta a lui perché secondo quanto riferito dal legale rispetto ad Ascoli non sarebbe cambiato nulla. È vero che quello piemontese è un carcere attrezzato per affrontare e gestire casi clinici di natura psichiatrica ma resta pur sempre un carcere. Nella sostanza le condizioni psicofisiche dell'imputato non migliorerebbero e in gioco c'è la sua vita. Con un comunicato stampa l'avvocato di Antonio si pronuncia ufficialmente. Prendo atto della decisione del GIP di trasferire Antonio presso la casa circondariale di Torino ed esprimo il mio disappunto personale e professionale per una decisione non condivisa e non condivisibile e che appare obiettivamente inutile di fronte alle impellenti necessità di cura di Antonio Tagliata. Appare singolare che in presenza di valide strutture psichiatriche nelle marche si sia scelto di riproporre una risoluzione carceraria che già si è dimostrata fallimentare ad Ascoli Piceno. Rilevo inoltre che così facendo si isola ancora di più il ragazzo dalla famiglia si tratta di oltre 1100 km tra andata e ritorno. Dal consulente psichiatrico di parte e dal suo difensore si fatto isolamento non può certo migliorare le condizioni di salute di Antonio esprimo tutta la mia ulteriore preoccupazione per la situazione che si è venuta oggi a creare in una vicenda tanto triste e cruenta nella quale si sono già perse tragicamente due vite umane non è accettabile il rischio di perderne una terza ben due psichiatri tra cui uno nominato dal giudice hanno riscontrato in Antonio una seria patologia psichiatrica che può determinare un esito infausto è necessario e ancora più impellente che Antonio sia trasferito immediatamente in un luogo di cura adeguato che non sia solo contenitivo ma con reali ed efficaci prospettive trattamentali il professor Renato Ariatti nella sua relazione al termine dell'udienza davanti al GIP di Ancona sostiene che le condizioni di Antonio Tagliata non sono incompatibili con la detenzione nel carcere di Torino a Torino infatti c'è un reparto di osservazione psichiatrica intensiva nell'aprile del 2016 emerge che il PM Andrea Laurino primo titolare dell'inchiesta è stato vittima di minacce telefoniche ascoltate durante una serie di intercettazioni a cui stavano lavorando i carabinieri di Ancona ma un ulteriore passaggio dell'opera intimidatoria si è concretizzato quando sono stati recapitati una lettera contenente minacce di morte e dei proiettili allo studio dello psichiatra Renato Ariatti guarda caso pochi giorni dopo la decisione del GIP di nominarlo perito incaricato di valutare la capacità di intendere di volere di Antonio Tagliata in riferimento al duplice omicidio azioni inaccettabili che hanno costretto la procura di Ancona a mobilitarsi per prevenire altri fatti simili mentre Ariatti ha rimesso il mandato terribili le minacce contenute nella lettera in cui si intimava all'esperto di non rendersi complice dei giudici ma di fare in modo che Antonio venisse aiutato e curato cioè affidato a una struttura clinica e non a un carcere come quello torinese dove il ragazzo è stato rinchiuso e che come detto è dotato di un reparto di osservazione psichiatrica intensiva tuttavia le minacce non finiscono qui l'anonimo ha scritto che i familiari di Arietti sarebbero stati sgozzati come maiali se il contenuto della missiva fosse stato reso noto plico e proiettili spediti dal sud Italia sono stati presi in consiglia dai carabinieri di Bologna che coordinati dalla procura emiliana conducono accertamenti per risalire al mittente per gli investigatori i sospetti ricadono sul padre di Antonio motivo per il quale la procura dell'Aquila emette nei suoi confronti il divieto di avvicinarsi al PM Laurino a subentrare nell'inchiesta dopo Renato Ariatti è lo psichiatra Vittorio Melega che deve incontrare Antonio nel carcere di Torino avviando un'indagine clinica il quadro delineato dal consulente della difesa di Martina invece tratteggia una personalità dipendente e molto immatura per la sua età affetta da un vuoto esistenziale che ha cercato di colmare attaccandosi morbosamente a quell'insano sentimento per Antonio tagliata il quale l'avrebbe sopraffatta fino a renderla complice dell'assassinio di Fabio Giacconi e Roberta Pierini i genitori con cui Martina aveva un rapporto profondamente conflittuale infatti soltanto di recente si stava riavvicinando a loro non senza fatica combattuta tra il sentimento per il fidanzato osteggiato dal papà e il ritrovato amore familiare è andato in burnout il consulente è convinto che la personalità della ragazza abbia un nucleo sano e integro ma che sia caratterizzata da una profonda immaturità e dipendenza strutturale per cui lei tende a riempire il proprio vuoto emotivo creando relazioni nelle quali esalta in modo irrealistico le qualità affettive e protettive del partner dunque secondo lo psicologo decade del tutto la rappresentazione della coppia assassina non soltanto Martina non sarebbe mai stata la mente di un disegno così malvagio ma neppure coinvolta al pari di Antonio nel momento successivo al delitto Martina avrebbe accusato lo shock attraverso un distacco emotivo che l'ha indotta a seguire Antonio Tagliata come fosse un fantasma che si dirige verso l'oscurità dell'oblio l'esperto non ha dubbi Martina non avrebbe mai legittimato l'omicidio resta il fatto che per l'accusa la minorenne è complice di Antonio perché nei fatti ha sempre autorizzato la follia del suo ragazzo e pensare che dopo i tanti scontri familiari testimoniati dalle crisi emotive della ragazza poco prima che si compisse il delitto lei si stava riavvicinando ai genitori aveva ricominciato a comunicare con loro aveva ritrovato l'amore di una madre che la coinvolgeva nella sua vita come nella decisione comune di iscriversi in palestra aveva anche riscoperto la comprensione di un padre che dopo una vita di spostamenti legati all'aeronautica militare si era fatto trasferire a Loreto vicino a casa tutto distrutto a sette mesi esatti da quel sabato pomeriggio Martina mette a fuoco la tragedia mentre crolla la visione idealizzata di Antonio il 26 luglio 2016 il procuratore capo del tribunale minorile per le Marche richiede 18 anni di reclusione per Martina considerando la minorità il rito abbreviato e l'incessuratezza è il massimo della pena la richiesta dell'accusa viene accolta il GUP condanna Martina a 18 anni con l'accusa di duplice omicidio volontario aggravato dal legame di parentela per gli inquirenti i due ragazzi non progettavano il delitto da tempo e in maniera scientifica ma quel 7 novembre non si erano incontrati per caso i fidanzatini senza scrupoli si erano dati appuntamento in piazzale Europa lei in conclusione sapeva della pistola sapeva che era vera aveva visto i caricatori aveva accarezzato i proiettili soprattutto come confessato nell'interrogatorio aveva messo in conto che Antonio potesse usare quell'arma contro i genitori una dichiarazione in pieno contrasto con la versione difensiva che dipingeva Martina come inconsapevole e desiderosa di ottenere un pacifico chiarimento dai suoi genitori ad avvalorare la tesi ci sono le intercettazioni ambientali in cui Antonio Tagliata in una condizione insospettabile ripercorre i fatti con cognizione di causa facendo riferimento a Martina la fidanzata che nel momento della strage sarebbe arrivata a istigarlo poi la fuga quella in cui per la difesa lei avrebbe subito un blocco psicologico dettato dalla paura inerme incapace di reagire al massacro dei genitori ma per la procura se lei non fosse stata in concorso con Antonio non sarebbe scappata bensì sarebbe rimasta impietrita avrebbe gridato invece non ha detto una parola anziché prendere per mano Antonio e fuggire con lui avrebbe avuto l'istinto di soccorrere quantomeno il padre ancora vivo circondato da un lago di sangue invece i due si sono precipitati sulle scale della palazzina di via Crivelli per quanto riguarda Antonio Tagliata non sarebbe stato capace del tutto di intendere di volere al momento del delitto ma sempre secondo le analisi del medico bolognese non è stato plagiato dalla fidanzata sicuramente era succube Martina aveva un forte ascendente su di lui ma tutto questo in riferimento al rapporto di coppia nato mesi prima un amore giovanile vissuto in simbiosi in cui i due si sarebbero annientati a vicenda Melega spiega che le capacità critiche e volitive di Antonio non erano totalmente integre al momento del fatto anzi erano gravemente compromesse anche se non annullate del tutto questo per effetto di una patologia di cui Antonio era affetto ancora prima del periodo infantile chiamata disturbo pervasivo dello sviluppo la sua patologia manifestatasi anche durante il suo percorso scolastico nei rapporti con gli amici in quella situazione di forte stress lo aveva portato ad attuare un comportamento sfociato in tragedia il perito incaricato riassumendo ha parlato di disturbi che caratterizzano la compromissione delle tre principali aree di sviluppo psichiatrico di un bambino quali sono? le capacità intellettive dice l'esperto ho riscontrato una forte diminuzione Antonio ha mostrato un cui di 70 quindi ai limiti della normalità le capacità di relazioni sociali annichilita la capacità di comprendere il grado di rapporto umano con gli altri spiega Melega la gestione dell'emotività Antonio non è in grado di analizzare e comprendere il vissuto emotivo e comportarsi di conseguenza nelle frequentazioni rivela il primo dicembre del 2016 viene chiesta la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Tagliata richiesta che è accolta nel gennaio del 2017 la corte di appello di Ancona riduce la pena di Martina Giacconi da 18 a 16 anni mentre nel marzo del 2018 conferma i 20 anni di reclusione per Antonio Tagliata detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso spero sia stato di vostro interesse lo conoscevate fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti in un frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti